Ferito nel corpo e nell'anima, Elio De Capitani porta in Italia In piedi nel caos della drammaturga francese Veronique Hogné Storia di un reduce che torna a Mosca dalla seconda guerra in Cecenia L'ha visto per noi Alessandra Costa Tutto come prima, veramente come prima Tutti noi viviamo situazioni terrificanti a livello personale A livello storico, politico, generale Ci sono le guerre, ci sono migrazioni, c'è tutto Però c'è una forza, una scintilla dentro di noi Che ci può aiutare a sopravvivere le situazioni peggiori È la scintilla che ci tiene in piedi nel caos Titolo che ben sintetizza la pièce della drammaturga francese Veronique Hogné Scritta nel 98 e portata per la prima volta in Italia Da Elio De Capitani al teatro Il Fupuccini di Milano Protagonisti Angelo Di Genio e Carolina Cametti Con Cristina Crippa e Marco Bonadei Premiato in Francia dalla critica in piedi nel caos È ambientato a Mosca durante la prima guerra a Cecena Yuri è rientrato dal fronte, ferito nel corpo e nell'anima La moglie Katia si dispera ma non riesce a strapparlo al suo mutismo di alcolizzato Non lo devi fare mai più! Mai più cazzo! Mai più! Yuri! Quella non ti brucia! Non è il fuoco che ti mette dentro! È una corrente d'aria sporca! Yuri non può, non sa e forse non vuole raccontare il suo silenzio e quello dei reduci di tutte le guerre Perché nessuno potrebbe capirli, nessuno ha visto quello che hanno visto loro E anche tutti quelli che hanno la pretesa nel mondo occidentale di sapere com'è la guerra Perché l'hanno vista in televisione È una cosa che riempie ancora di più i loro silenzi La crisi di Katia Yuri si intreccia con le vite dei coinquilini In sette abitano una vecchia comunalca di sovietica memoria Tra loro Babushka, l'antica proprietaria dell'appartamento, espropriato dai bolshevichi Nonostante tutto quello che ha passato, e lei rappresenta il ponte storico proprio per Verone Colmi Questa consapevolezza di volere in qualche modo trovare un fondo di resistenza Di qualcosa in cui le donne comunque portano avanti un discorso di vita Non lo può più fare direttamente, lo vede nella ragazza Nell'appartamento anche lo spregiudicato Griscia, come Yuri è richiamato al fronte Sfuggirà alla trappola solo grazie alla sua scaltra spavalderia Spedito al massacro, come migliaia di altri ragazzi, ignaro e senza preparazione Porta anche la paura di quello che è prima della guerra Di chi non c'è stato, di chi ha sentito che cos'è, che cosa può essere, ma che non sa La guerra da un lato e la convivenza forzata dall'altro Come lenti di ingrandimento illuminano diserzioni e tradimenti, furbizie e segreti Tutto questione di resistenza individuale, sembra suggerire il personaggio di Katia, motore di tutta la trama Il mondo cambia, a seconda di come lo si guarda Il percorso lo fanno gli altri personaggi, ma lei è quella che continua a perorare sulla sua causa E senza mai mollare E trasmette proprio questa forza E riesce coraggiosamente a rimanere in piedi nel caos Il mondo cambia, a seconda di come lo si guarda